Il Cotton Club è ancora campione d'Italia della Serie A della Lega Calcio 8 De Marco rincorsa, si ferma e spara su Santarelli La corsa del Cotton Club verso il proprio portiere, il proprio salvatore Nel primo tempo chiude la porta ai rigori, chiude anche la lotta per lo scudetto Il Cotton Club è ancora campione d'Italia della Serie A della Lega Calcio 8 Nel primo tempo chiude la porta ai rigori, chiude anche la porta ai rigori Grazie per la visione! sulla sinistra, servito in questo momento il sinistro e il vantaggio dello Iaco FC con Ciucciarelli, diciottesimo gol stagionale, 1-0 Iaco Guarda in mezzo, poi le cross, è sul secondo palo pericoloso, la pala che resta lì, in area di rigore subito la traversa colpita Cucciare a fare tanto gioco perché quando hai la tecnica nel calciotto per poter... Intanto attenzione a Monteforte, 1-2 dribbling, il sinistro, Santarelli Va via benissimo, l'ho pinto L'ho pinto, aspetta il secondo Lo supera, l'ho pinto col raso terra Ancora il muro, Miscomi Lo stop, pensa alla conclusione Invece va per Marc Angeli E la golla, arriva il pareggio L'Atletico Fiumicino ha poco meno di due minuti dal termine Finisce qui questa finale dunque L'Atletico Fiumicino trionfa Sarà la lotteria dei calci di rigore A dirci chi Tra Cotton Club e Golbet Calciotto si laureerà Campione d'Italia della Lega Calciotto Rimarco, rincorsa, si ferma e spara su Santarelli Il Cotton Club è ancora campione d'Italia della Serie A della Lega Calcio A A A A A A A Oh! 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 Oh!